1.40. Invito a ritiro, parere contrario. 1.27. Invito a ritiro, parere contrario. 1.8. Invito a ritiro, parere contrario. 1.9. Invito a ritiro, parere contrario. 1.25. Invito a ritiro, parere contrario. I due identici, 1.6 e 1.42. Invito a ritiro, parere contrario. 1.53. Invito a ritiro parere contrario. Andiamo agli aggiuntivi. 1.01. Tutti parere contrario. Tutti parere contrario. Allora facciamo prima. Aspetta. Va bene. La ringrazio deputato. Adesso chiederei al rappresentante del Governo di esprimere i pareri. Prego. Grazie. Parere conforme a quelli espressi dal relatore. Grazie. Va bene. Grazie. Allora colleghi, cominciamo. Siamo all'1.29. Deputato San Nicandro, un suo emendamento. Prego. Preliminarmente vorrei illustrare, spiegare qualcosa. Il titolo della presente proposta di legge dice disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di rialineamento retributivo nel settore agricolo. Questa titolazione non dice tutto e in un caso dice troppo. Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero. In questa legge non c'è un rigo, un rigo che parli del lavoro nero, né in modo diretto né in modo indiretto. Si tratta di una legge che, per la parte che appunto riguarda questa questione, modifica il codice penale e il codice di procedura penale. Cioè modifica l'articolo 603 bis. Il quale articolo 603 bis, tra l'altro come noi l'abbiamo modificato, che cosa dice? Dice sostanzialmente che chiunque...